Gentili telespettatori, buona giornata. Lusi Grai, il sindacato di sinistra della Rai, contro Bruno Vespa per un tweet sull'Italvolley dopo l'oro. A questo punto Bruno Vespa scrive su X, ex Twitter, dice straordinaria la nazionale pallavolista femminile, complimenti a Paola Enogu e Miriam Silla. Si sbaglia a scrivere il posto che è Gonu Enogu. E dice brave eccetera eccetera, esempio di integrazione vincente. Ma il post scatena le polemiche. E così interviene il sindacato della Rai di sinistra. Sapete che oggi c'è un sindacato di sinistra e un sindacato di destra. A parte l'errore sul cognome della pallavolista, c'è chi critica il conduttore di porta a porta per il fatto che ha parlato di integrazione, mentre le ragazze in questione sono tutte nate in Italia, quindi nessuna di loro deve integrarsi. Poi diciamo che Bruno Vespa ha specificato quello che intendeva, ma Lucy Gray dice che il post del giornalista è indegno del servizio pubblico. La Rai cosa aspetta a intervenire è considerata anche l'onirosa collaborazione dell'artista, un escamotage per aggirare il tetto dei 240.000 euro di retribuzione nella pubblica amministrazione? E lui poi dice che Lucy Gray è da trent'anni un discorotto fuori dalla cronaca e dalla storia. Si cerchino un posto altrove se hanno mercato. Provo nei loro confronti sincera umana solidarietà per le insanabili frustrazioni che le accompagnano da sempre. Mi dispiace che rappresentino anche straordinari colleghi che hanno dato prova di altissima professionalità durante le Olimpiadi e che farebbero fortuna in qualunque emittente. Beh, adesso è arrivato in Rai anche l'unirai che è il sindacato di destra. Allora, ottima prova della Rai sulle Olimpiadi, grandi gli atleti italiani, piccoli, veramente piccoli, quelli che invece innescano ridicole polemiche contro Bruno Vespa, da anni una delle figure più autorevoli e apprezzate del servizio pubblico. Viva la Rai, viva l'Italia a colori. L'altro sindacato di sinistra controbatte. Vespa, oltre a ignorare totalmente la storia delle due giocatrici che sono nate in Italia, dove si sono formate sportivamente, sottolinea senza alcun motivo le differenze, dimostrando un razzismo latente e una mentalità retrograda. Allora, il fatto è che in Rai, adesso essendoci due sindacati, ci sono adesso due tifoserie. Cioè c'è il sindacato di destra che guarda i giornalisti di sinistra, e il sindacato di sinistra che osserva i giornalisti di destra. Quindi qualsiasi mezza parola viene interpretata. In effetti poi vi racconterò che cosa ha detto Bruno Vespa, che però c'è un qualcosa di strano. Perché nel giorno della vittoria della pallavolo bisogna parlare di queste cose? Perché al posto di festeggiare bisogna andare a rimarcare, specificare, indicare? C'è qualcosa di strano in questo. Perché il generale Vannacci ha dovuto di nuovo rimarcare a quello che avevo detto, lo penso anche adesso, è ovvio. Perché questo sottolineare? Forse perché bisogna rendere conto a un elettorato di un certo tipo? Intanto Bruno Vespa è stato già catalogato e incasellato tra i giornalisti di destra o di centro-destra, come volete. Quindi oggi viene visto da tutto quel mondo di sinistra come un fiancheggiatore del governo Meloni. Diciamo che Bruno Vespa, per chi lo ha osservato bene, è sempre stato un giornalista di centro-destra, anche se lui ha sempre tentato di essere trasversale, di non prendere parte. Però da tante piccole sfumature si è sempre notato che lui come parte politica era nel centro-destra. Oggi, che viene catalogato a destra, il sindacato di sinistra lo vede come se fosse un avversario. E così ogni parola viene... Perché lui ha parlato di integrazione, invece le ragazze sono tutte nate in Italia. Però, se voi ci pensate bene, ma bene, l'integrazione è al di là del fatto se uno nasce in Italia o no. Voi sapete che se vi trasferite da una zona d'Italia all'altra, cominciate a trovare indifferenza, sospetto, e dovete integrarvi. Quindi l'integrazione è per chiunque, anche per chi si sposta all'interno della stessa Italia, c'è l'integrazione. L'integrazione è vista non come qualcosa di negativo, ma come un modo di inserirsi nel tessuto sociale, economico, culturale, di una zona che tu non conosci, nella quale stai arrivando. Beh, poi nel prossimo video vi racconterò quello che Bruno Vespa ha risposto al sindacato di sinistra e in particolare ha risposto così alla società che oggi lo indica e lo indica come se fosse Vannacci 2. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.